Pasqualino Piunti da Franco Fedeli, nella villa di Santa Marinella dell'ex presidente. L'incontro che si doveva fare domani è stato anticipato a oggi. Presente anche l'avvocato Mataloni, consulente del sindaco. Perché il nodo è di natura legale. L'articolo 52,10 delle NOIF, le norme organizzative interne federali, per cui la nuova società da scrivere in serie di insoprannumero, non deve avere al suo interno, si legge, soci e o amministratori che abbiano ricoperto negli ultimi cinque anni il ruolo di socio, di amministratore e o di dirigente, con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatare di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca della filazione dalla FIGC. Tradotto, Fedeli, che ha ceduto il testimone nel giugno 2020 a Domenico Serafino, non potrebbe far ripartire il calcio rosso-blu. Dopo il fallimento del 4 maggio scorso e la mancata iscrizione in serie C, della S-SAMB di Roberto Renzi. Piunti resta in silenzio, mentre Fedeli si lascia andare a poche battute. Quando c'è qualcosa di concreto, definitivo, lo saprete. Adesso ancora non c'è niente. Abbiamo buttato giù delle basi, vediamo. Non credo che domani, dopo domani. Ci abbiamo poco tempo. Domani stesso verrà contattato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e ascoltato qualche esperto in materia, per capire se lo scoglio può in qualche modo essere superato, perché il sindaco, potendo la sua scelta, l'avrebbe già fatta. Fedeli più il gruppo di 11 imprenditori del posto, comprensivo però di Antonio Oliveri e Gheri Merlunghi, quello che a fatica era cimolato 400.000 euro, meno della metà di quanto occorrerebbe per una serie di da primato. Due però in odi da sciogliere. Le norme federali, soprattutto. Non si trovasse una via d'uscita, è probabile che Fedeli farebbe un passo indietro. E poi occorrerebbe far digerire alla piazza il ritorno dell'ex patron. In ogni caso, sono ore decisive per il futuro della Samb.